Avevano scelto un bosco tra Fogliano della Chiana e Sinalunga come piazza dello spaccio di cocaina, oltre un chilo quella ceduta ogni mese a 100 euro al gramma ad un centinaio di clienti abituali. A sgominare la banda i carabinieri del nucleo investigativo di Siena con l'operazione Luci nel Bosco che ha portato all'esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini di origine albanese, due arresti e quattro obblighi di dimora. L'accusa per un 28enne residente a Sinalunga ha ritenuto dagli inquirenti il capo del sodalizio criminale e di traffico di stupefacenti per gli altri cinque spaccio in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari tramite sms, i pusher davano appuntamento ai clienti a margine del bosco dove la cocaina veniva conservata dentro le pendici di un albero ricurvo, così era infatti definito dagli stessi spacciatori come emerso dalle intercettazioni telefoniche. A tradirli i litigi le accuse reciproche via telefono dopo che i carabinieri sulle loro tracce dal giugno 2018 avevano volutamente sottratto 200 grammi di droga dal bosco individuato grazie alle indagini con l'uso del GPS. La cocaina proveniente dall'Albania e dalla provincia di Bergamo era venduta all'85% dopo essere stata tagliata con la creatina. Secondo quanto accertato dalle indagini, buona parte dei proventi dello spaccio veniva poi inviata in Albania. Con questo denaro il capo si stava costruendo un palazzo. Altre 14 persone sono indagate a vario titolo, le loro posizioni sono infatti al vaglio della magistratura.